Il giro di vite 2011, qui vediamo questa vite, l'ultimo lavoro, sì. Ce lo vuoi spiegare un pochino? Dunque, è una rappresentazione concettuale, alla base di tutto c'è una vite, quindi sta a rappresentare l'intercambiabilità della personalità di ognuno di noi. È una provocazione perché purtroppo tutti noi, troppo facile, ci facciamo trasportare, trasportare dalla massa, è raro trovare una personalità propria forte e quindi la vite è la mia provocazione. Quindi siamo tutti pronti a staccarci, di attaccarci. Esatto, questo è il concetto, questo è il concetto. Tu hai fatto degli studi particolari? Io ho fatto l'istituto d'arte a Lucca, sono aerografista, quindi mi occupo di aerografia. E hai già fatto delle mostre? A livello collettivo, sì, a livello collettivo, in studi privati, più che altro. Ok, senti, come ti ha contattato l'assessore? Noi abbiamo chiesto appuntamento un anno fa, siamo un gruppo di ragazzi che ci conosciamo e abbiamo richiesto uno spazio per poterci esprimere e adesso siamo qua, insomma. E oggi è un bel giorno. Ciao! Ciao!